senza fare troppi no siamo dal rosso pomodoro questo è il marchio il secondo cornice o cornice pomodoro di san marzano mozzarella schiotti latte direttamente da napoli quella filo d'olio d'oliva stilla siccome la pizza è per me anche pozzolica inforniamo il forno che sta a 400-450 gradi temperatura del forno? 400-450 gradi come tradizione napoletana è buono ci sta rompendo il braccio vediamo la pizza vediamo la pizza vedete come sta sollevando i cornici ecco la pizza napoletana del resto del motore è pronta due foglioline di basilico questo per aromatizzare il tutto la mano del cameraman guardate i cornicioni come lievitati guardate ho spettacolo di cornicioni buon appetito buon appetito